It's hard to breathe, but that's alright L'ho aperto e ho trovato Benzema 97 del Real Madrid Tots, non male Ed oggi andremo ad aprire un bel po' di pacchetti succosi Abbiamo LTM Super Pack, Special Pack, Tots 2% Pack, LTM Standard Pack Di tutto e di più Partiamo con queste LTM Super Pack Vediamo cosa ci riserva Ed è solamente IF, IF Spagnolo del Real Betis, Canales 86 Andiamo avanti, vediamo cosa ci riserva Ed è Walkout Ororaro Spagnolo del Barcellona Difensore Piquet 88 Andiamo ancora avanti Ed è Attenzione Carta Headliners Inglese Del City Ed è difensore 87 Walker Non male Non male questi primi pacchetti Andiamo ancora avanti Solamente IF, IF Walkout Attenzione IF Walkout Se Spagnolo Del Celtavigo Attaccante Ed è 87 Iago Iago Aspas Andiamo ancora avanti Attenzione Se non erro Iconat E si è Icona Nigeria Della Costa D'Avorio Attaccante Ed è 89 Drogba Drogba E Pjanic 86 Andiamo ancora avanti Se non erro Headliners Sì Ed è Inglese Del City Sempre difensore Di nuovo Walker 87 E carane 86 Di nuovo Andiamo ancora avanti Attenzione Carta Di Halloween Jesus Navas 85 Del Siviglia Andiamo Ancora avanti Attenzione Attenzione Candidato Al Toti Ed è Del Liverpool Manet Manet 89 Non male Soprattutto perché Mancava questa carta Ancora Andiamo Ed è Se non erro Di nuovo Icona Icona Italiana Icona italiana Attaccante Attaccante 85 Pippo Inzaghi Già Due icone E molte altre carte Non male Andiamo ancora avanti Questa volta solamente If If Brasiliano Attaccante Richarli Sono 82 Dell'Everton Ci andiamo ad aprire questi Special Pack Per vedere se esce qualcosa Attenzione Attenzione Carta Champions League L'illusione Del Del Tots Ed è Centrocampista Del Piemonte Calcio Di Bala 88 Andiamo Ancora avanti If Francese Gignac 83 Ancora Attenzione Walkout Oro Laro Ed è Francese Del Tottenham Portiere Iori 88 Doppione Andiamo Ancora avanti Vediamo Cosa ci riserva Questo pacchetto Solamente Oro Laro L'Aguas Pas 85 Vediamo Vediamo Attenzione Di nuovo If Francese Legione 82 Ancora Andiamo avanti Attenzione Carta Halloween Brasiliano Bernard 84 Andiamoci ad aprire Qualche pacchetto Vediamo Tots 3% Pack Vediamo se possiamo Un po' cambiare La monotonia Ed è solamente If Dunclay 78 Doppione Special Più Pack Uno solo Nel negozio Attenzione Attenzione Altra Icona Già siamo A quota 3 Spagnolo Spagnolo Attaccante Ed è 88 Raul Ne è valsa Va bene A spendere Questi 150 K Cap Ci Andiamo ad aprire Non so Non so Questi LTM Standard Pack Vediamo Cosa Ci riservano È solamente Ororaro Rodri 85 Ancora If Ed è Vankrobouge 79 Poi Andiamo ad aprirci Questi Tots 2% Pack Vediamo Se può Eserci Qualche Sorpresa Ma Solamente Gabriel 80 90 Niente Carasco 83 Andiamoci ad aprire Beh 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 Elite Pick 2.0 E ci esce Attenzione Aguero 89 Oblak 91 Mane 89 Van Dyck 90 Mbappé 89 Andiamoci a prendere Aguero 89 Del City Ancora Questi Elite Pick Vediamo Se possiamo Trovare Qualcosa Di Succoso E ci esce Junior 85 Makelele 85 Salah 90 Aguero 89 E Nengolano 87 Come detto Nei scorsi video Le icone Non si rifiutano mai E prendiamo Makelele Andiamo Ancora Avanti Attenzione Attenzione Lewandowski 89 Poi 85 Ayos Perez Sanchez E Chinycchio Andiamo a prendere Lui Non capisco Perché non hanno i diritti Della Bundesliga Vediamo Cosa Ci esce Da questi Pacchettozzi Ederson 88 Van Dijk 90 Gullit 90 Sergio Buscherze Etter Stegen Ancora Gullit Prendiamo 90 Ultima Elite Pick Vediamo Proprio Cosa Ci esce Ramos 89 Allison 89 Underwild 87 Overmars 86 E Bayhead 86 Overmars Se non erro Quota 6 icone In questo pack opening Incredibile Andiamo Con questi special Il pack Vediamo Se ci esce Qualcosa Di interessante Ietone 83 Quindi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Ditemi nei commenti La vostra Iscrivetevi al canale Condividete il video Ounque E detto questo Vi ringrazio Per aver visto il video Qui da Jotrono Games Se tutto Ciao Ciao